Qua c'era la missione di MJ e B. Ah, devo passare all'altra. Che roba è? Beh, un piante e una chiavetta USB. Mai collegare al computer una chiavetta di origine ignota. Ma Norman lo conosco, credo. E quindi lo faremo. Pet! Ho raccolto queste cose perché sapevo che quando saremmo usciti da questo periodo assurdo, se fossimo usciti, avrei voluto lasciarle. E... non ero sicuro di poterlo fare di persona. Harry... Dopo che la fondazione Emily May è stata distrutta dai cacciatori di Kraven, ho provato a salvare il salvabile prima che sbarrassero tutto. Nella scatola troverai un pezzo di corteccio dell'albero di mia madre e uno dei fiori di May. Ah, il combino. Se ne combinassi i genii, potrebbero essere un esemplare abbastanza forte da dare, sì. Wow, meglio, ok. Proviamo. Vediamo se mi ricordo. Alla scatola. Alla scatola. E guardando lele, an alto mione. La scatola che electione a questo Tu puoi pez reservesque il sul реально piirà èimitato. Alla scatola non disp espacio per darvi al ciò però, tutti ries? La scatola. La specie è preziana la scatola che pensتraeli appravwano. E faccio sp Formulaiona da lower temperatura respiratore安. Grazie. Vai ci siamo. Eccolo qua. Non ci siamo trovata. Spero che ce l'avresti fatta. Ricordi i droni ape recuperati dalle ricerche sul campo. Sfruttando i dati di riposizionamento possiamo piantare quei semi per la città. Sei proprio un genio, Harry Osborn. Facciamo lavorare con le api. Lo so, lo so, ci vorranno anni prima di vederne i risultati. E io e te non sappiamo dove saremo tra una settimana e vogliamo... Beh, tu morto purtroppo io no. Per questo ho creato questa simulazione. Così Emily e May continueranno a vivere. Nella nostra città, oltre che in noi. Ti voglio bene. Ed... Sul serio. So che la fondazione non ha preso la strada che speravo, ma... Non avrei voluto nessun altro al mio piano. Quando riceverai questo messaggio sgomento che ne avremo già fondata un'altra. Non penso proprio. Da zero. Io e te. Viva noi. Viva noi. Un'ultima cosa. Lasciargli un ricordino. No, tutta sbloccata. Allora... Tra la metà han... No, più han... No, più han... E' proprio... Sembra style ant man. Quello... E' proprio... Sembra stile ant man. ho cercato la missione mistero che adesso andiamo a fare la missione finale bravo ok dove è back benvenuto spiderman se stai cercando Betsy e Cole non sono più con noi le hai uccise non vincetevi sorprese sape face finta all'inizio tutti avevate a che fare bene effetti ma cosa eccolo qua back il mio nome è mistero rai misterio rai misterio cosa cosa è successo pensavo che avessi a cuore il futuro dell'intrattenimento questo è intrattenimento non lo so quella storia dell'hacking ai danni del misterium era tutta una bugia ho passato anni dietro alle spalle in attesa della tecnologia quant'è figo però sto mondo e ora grazie le mie illusioni sono inutile sei lì cattivoni ovunque se è come le altre illusioni più nemici elimino più è facile che riesca a fuggire lì ho uscito aia un ipoterico un mistero non avete già power ci sono bastati cosa come vuoi essere vivo fatti sotto e lo scoprirai ma vuoi giocare con me città che diamine ti è preso devi mettere i tuoi poteri al servizio della città la città non rispetta i miei talenti non è così che ottieni rispetto e rispetto tutto qua back continua a lottare dubita è l'unico modo per sconfiggerlo frena se tu sei qui e misterio è là fuori com'è possibile aspetta che cazzo sta succedendo di nuovo qua ti ucciderò io stesso città credi davvero di potermi sconfiggere? è offensivo tutto quello che è successo è frutto solo della mia volontà ti stai arrampicando sugli specchi ci ha fatto male è finita tutto qua Mi aspettavo una... Una lotta con più effetti Ma non importa Vivo o morto Non riuscirai a fugire dal mio mondo Porca miseria Ah Questo è quel colpo di scena Quando ti avrà ucciso La città mi dà la fine Il rispetto che merito Vuoi il rispetto? Ferma questa follia E' un po' di rispetto 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 G BOOM Non era fine fine Ok C'è questo Questa porta La simulazione, riavviala Ma pensate Guarda chi c'era qua Mi credevate mistero Certo Ma cosa voglio fare Alla fine era buono Era un loro Che volevano fare burdel Steccafone Un cattivo in pensione Misterio è un criminale Così come Spider-Man è un eroe Ma E' quando uno inizia a spirciare sotto le maschere Che tutto si complica Buona fortuna Abbiamo fatto anche questo E' skip room di mistero Ciao 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 Ciao